E' un ritorno molto gradito sul mercato dopo molto tempo di attesa e soprattutto dopo molti mesi dal suo lancio. E' finalmente venuto il momento di provare il nuovo BlackBerry Key One. Ecco dunque uno dei prodotti più curiosi, più originali, più singolari che il mercato stia offrendo, ovvero BlackBerry Key One. Allora dico curiosi perché vedete che il display è abbinato a questa tastiera fisica, cosa che ormai sui telefoni non si vede quasi più. E perché c'è un display da 4,5 pollici che però stravolge un po' la razio del telefono perché sotto c'è attaccato questo popò di tastiera. Faccio un esempio, questo è il nuovo LG Q6 che ha un display da 5,5 pollici, bene un pollice in più, eppure guardate è nel complesso più piccolo, vediamolo così, è nel complesso più piccolo rispetto al BlackBerry Key One. Se prendo iPhone che ha 5,5 pollici di display e li sovrappongo, parliamo ovviamente di iPhone 7 Plus, vedete pur con un pollice di differenza potrebbero essere 3 centimetri, vedete che la distanza è davvero minimale. Ancora, provo a prendere il Moto Z2 Play, fare un'altra comparazione di questo genere, vedete 4,5 contro 5,5 e insomma la differenza di dimensione è comunque notevole. Se vogliamo proprio esagerare prendiamo anche il OnePlus 5, anche in questo caso vedete 5,5 contro 4,5, vedete come essenzialmente i display, pur essendo molto più grandi, danno un telefono che però nel complesso è di poco, di poco superiore nelle dimensioni rispetto al BlackBerry Key One. Come detto, display da 4,5 pollici con un razio particolare perché 1080x1620, ci sono 32 giga di memoria, un processore Snapdragon 625, 3 giga di RAM e una batteria da 3.505 mAh. Sulla parte posteriore c'è la fotocamera, è una fotocamera da 12 megapixel di ottima qualità, tra l'altro in grado di girare anche i video in 4K. Mentre la fotocamera frontale è da 8 megapixel con apertura 2.2, tra l'altro con i pixel di una misura leggermente più grande da 1,12, il che vuol dire insomma una ottima capacità di catturare immagini. Ecco, pensate che quelli posteriori sono addirittura da 1,55 micron, quindi con una dimensione davvero notevole e la qualità generale della fotocamera è comunque buona. Allora, caratteristiche. Beh, insomma le caratteristiche vengono sicuramente da questo display, dalla personalizzazione anche di Android fatta da BlackBerry, che peraltro a me piace anche molto. C'è una personalizzazione che trovo abbia le cose giuste. Ad esempio il tasto comodità, il tasto comodità che è questo tasto che vedete nella parte laterale, appena sotto il volume rocker, dalla parte opposta invece c'è il pulsante di accensione, nella parte superiore c'è l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, un po' cicciotto il telefono con i suoi 9,4 mm di spessore, che oggi sono un po' strani da vedere rispetto ai telefoni super nani, e super sottili. Vedete in questa parte invece l'attacco USB Type-C e poi l'alto parlante. Allora, eravamo rimasti al tasto di comodità. Vedete, io schiaccio il tasto di comodità e lancio la mia applicazione preferita, però potrebbe anche essere un task e quindi potrebbe essere ad esempio una nuova opzione per quanto riguarda un nuovo impegno nel calendario, una nuova mail, insomma potete assegnare veramente quello che vi pare. E quello che secondo me è molto carino è anche il fatto che, insomma, questo telefono abbia il tab, ecco vedete, non sempre precisissimo, guardate quanto tempo ci sta impiegando ed essenzialmente il tab non sta funzionando, quindi proviamo a chiudere tutte le applicazioni, ecco perché poi, vedete, in questo momento il tab non funziona. Questo tab laterale dovrebbe in realtà aprire delle opzioni, vedete, si apre e si richiude, ma purtroppo non mostra l'azione che dovrebbe mostrare, cioè quella di alcune scorciatoie, soprattutto di alcune informazioni riguardo le ultime mail ricevute, riguardo il calendario. Ecco, e qui entriamo nell'argomento, cioè l'argomento del processore. Secondo me questo è un telefono bellissimo, a me piace molto, devo dire che la combinazione tra i tasti a schermo, allora vediamo una cosa, la combinazione tra i tasti a schermo, mettiamo ad esempio qua con attività, aggiungiamo una nuova attività, vedete, io posso decidere di scrivere con la tastiera a schermo, che devo dire forse è una delle migliori in assoluto, oppure con la tastiera che si trova fisica. Vedete, tastiera fisica con, diciamo, dei tasti che non hanno una corsa lunghissima, cioè non è il vecchio Q10, per darvi un'idea, non è un vecchio Blackberry Curve, tanto per guardare un po' al passato, però diciamo che hanno una buona velocità. Il sistema è quello semplice, la punteggiatura si fa premendo Alt e contemporaneamente il tasto, premendo a lungo il tasto, vedete, con una pressione lunga del tasto si ha la lettera maiuscola, e poi, insomma, c'è la parte invece con quelli che sono i simboli, che però, vedete, appaiono essenzialmente, in questo caso, a schermo. I tasti, vedete, sembrano tasti a schermo, in realtà sono fuori dalla superficie del display, e il funzionamento, vi devo dire, è tutto sommato buono. Come sempre, il punto di forza, ovviamente, è questo Blackberry Hub, in cui voi potete unire la vostra posta elettronica, potete unire quelli che sono tutti i vostri account social, anche più di un account per lo stesso social, potete fare veramente tantissime cose, e la personalizzazione Android è veramente, veramente ben fatta. Scurriamo insieme, guardiamo un attimo insieme anche le applicazioni che vi vengono offerte. Allora, Attività è una delle applicazioni di Blackberry. Vedete il calendario in versione Blackberry, questo è il centro per il risparmio energetico che potete utilizzare, che fa un'analisi continua del telefono. D-Tech, invece, è l'applicazione che valuta la sicurezza e lo stato di protezione del vostro dispositivo. Vedete che nel mio caso viene considerata più che buona. Andiamo sempre a scorrere le applicazioni per vedere che cosa offre il telefono rispetto alla dotazione Android Standard. Vedete, ci sono alcune applicazioni per la produttività, però essenzialmente la vera differenza la fa il Blackberry Hub. Scusate, ho schiacciato inadvertidamente, torno indietro per farvi vedere questa applicazione di trasferimento contenuti che è molto utile, però la differenza vera la fa il Blackberry Hub. Tutte le vostre informazioni, tutte le vostre comunicazioni dentro un unico spazio. Quando decidete che volete scrivere, vedete, vi chiede se volete scrivere con una mail, se volete scrivere un messaggio di testo, se volete scrivere in Google Hangout, se volete connettervi con il vostro account di Slack. È veramente uno strumento potentissimo. Non vi ho fatto notare un altro dettaglio, relativo tra l'altro a questo telefono, ovvero un dettaglio che è quello della tastiera, che annega anche il sensore delle impronte digitali. Vedete, è questo qui. Essenzialmente quando il telefono è spento, basta appoggiare il pollice qui su questa parte per avere immediatamente a disposizione il telefono acceso. Non solo, perché forse ve lo posso far vedere in questo modo, vedete che il telefono, la tastiera diventa anche un touchpad vero e proprio che potete utilizzare dunque a vostro piacimento. Vi ripeto, questo è un prodotto per me molto completo. Diamo un occhio anche alla fotocamera, fotocamera che ha delle strane modalità di ripresa con la razio 16 noni, un terzo, vedete potete mettere la razio 4 terzi e poi potete mettere, questo invece che riempie completamente la razio del display. È un po' curiosa la situazione per la fotocamera, perché ci sono anche delle proporzioni a cui non siamo abituati. Io ad esempio uso di solito comunque la 16 noni, che vedete lascia queste due barre nere nella parte superiore e nella parte inferiore, che insomma è piuttosto singolare come condizione, però scatto molto veloce e peraltro, come dicevo in precedenza, con un'ottima qualità dello scatto. La velocità media del telefono è buona, l'unica cosa che io trovo proprio che soffra un po' il telefono è il fatto di avere un processore che secondo me non è all'altezza di un prodotto per il business. A perché si riscalda molto, spesso c'è un calore molto forte in questo punto del telefono e proprio perché fisicamente ogni tanto non risponde correttamente ai comandi, vedete come in questo caso, per cui vi devo dire non apprezzo molto, ecco adesso la gestione è tutto sommato e buona, vedete in alcuni momenti si perde via, in realtà prima avete visto che era successo che si era aperto ancora una volta il tab e quindi non avevo più il comando del telefono. Vedete, ha queste mancanze un po' nel software che mi lasciano un po' perplesso, il giudizio complessivo quindi ne risente un po'. Poi devo dire che anche la dimensione, cioè questo è un telefono molto grosso, eppure vi devo dire che ci si abitua facilmente ed è anche gradevole da utilizzare. La ricezione è ottima, buona, anzi direi scusate, la ricezione è buona, non confondiamoci con i Blackberry del passato, ecco, una ricezione che non è tanto sensibile quanto lo era in passato, la fotocamera come detto buona, la batteria sembra che non debba finire mai, è veramente infinita, quindi vi devo dire, faccio un po' di fatica a valutare, ah, voglio farvi sentire anche l'audio, faccio un po' di fatica a valutare questo telefono, però diciamo che sono lì lì combattuto, perché ci sono degli aspetti che mi piacciono tantissimo, soprattutto legati alla produttività, e poi ce ne sono altri invece che mi lasciano un po' perplesso. Insomma, diciamo che ci sono luci e ombre nella... Sentite l'audio, che vedete viene da qua? L'audio è veramente strepitoso, questo è un altro aspetto, l'altoparlante è veramente fortissimo, però dicevo, ecco, è un telefono che io trovo con luci e ombre, mi piace molto, ma secondo me TLC deve fare molto, molto di più perché sia ancora più preciso, ancora più, diciamo, efficace e riesca a rispondere soprattutto ad un'esigenza che è chiaramente un'esigenza business. Non bisogna mai dimenticarsene, il processore utilizzato è assolutamente insufficiente per, diciamo, assolvere a tutti i compiti che ci si aspetta da un telefono di questo genere. Però, però, vi dico che rispetto alle premesse sono rimasto comunque colpito e mi piace particolarmente. So che vi sto un po' confendendo, ma diciamo che sono un po' combattuto anch'io e è anche un quarto d'ora che sto cercando di spiegarvi questo concetto, per cui forse è meglio che cominci a prepararmi alle mie vacanze e vi dica che è difficile dare una valutazione complessiva a BlackBerry, che può essere un aspetto positivo o un aspetto negativo. Decidete voi, ciao! Grazie a tutti!